Federica, ha ragione Marino quando dice che hanno lasciato solo, i soldi li danno a tutti tranne che a me, insomma hanno fatto in modo che io facessi la fine che ho fatto sostanzialmente, quello dice Marino. Ma diciamo che Marino ha dimostrato e penso sia sotto gli occhi di tutti i cittadini romani che hanno vissuto l'amministrazione Marino, di non essere in grado di amministrare la città, non è quello che gli contestavamo principalmente, una città dove succedeva di tutto a suo insaputa e quindi è chiaro che il problema c'era. Dall'altro lato purtroppo i cittadini di questa città sono sottoposti non a delle regole per dare risposta alle loro esigenze, ma a delle regole per saldare dei conti interni all'interno del Partito Democratico ed è inaccettabile che… Cioè sono fatti regolamento di conti Marino e Renzi sulla pelle dei romani, mi sta dicendole. Non penso solo Marino e Renzi, sono proprio gruppi interni del Partito Democratico che fanno questi scontri che finché sono fra di loro veramente a me ne frega poco, succeda quel che succeda, ma il problema però è che non si può fare sulla pelle dei cittadini perché qui stiamo parlando del futuro, della vita, della qualità della vita, della sicurezza, delle tasse e dei servizi che vengono erogati ai cittadini con soldi pubblici, non si può quindi giocare sulla pelle delle persone per vedere chi è più potente all'interno del PD perché è veramente lo sviluppo totale della politica.